il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato l'italia tra prima e seconda repubblica sta per arrivare dal 4 ottobre andrà in onda su sky 1994 di cui vediamo il primo trailer il 1994 è l'anno della restaurazione Leonardo Notte interpretato da Stefano Accorsi ha capito che conquistare il potere è difficile ma mantenerlo è davvero una missione impossibile sembra impossibile invece per Pietro Bosco impersonato da Guido Caprino riuscire a cambiare anche ora che ha un ufficio alviminale non riesce ad abbandonare i suoi vecchi difetti ne riesce a dimenticare l'unica donna che ha davvero amato lei Veronica Castello Miriam Leone deve infatti decidere chi sarà il suo compagno di vita nel frattempo però capisce che non vuole più essere solo la donna di uomini potenti e inizia a giocare in prima persona la partita per il potere diventando una parlamentare in 1994 ritroveremo i protagonisti di quegli anni il PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro che al volto di Antonio Gerardi e Silvio Berlusconi interpretato da Paolo Piero Bon Grazie a tutti